Ebbene carissimi amici, siamo qui ancora insieme sul mio canale YouTube per andare a presentarvi un'altra spia veramente di valore, veramente di spessore, la spia 86 della ruota di Napoli. Questa è un'altra spia fantastica cari amici, le mie spie stanno annunciando dei 90 che andranno a spaccare la ruota, quindi abbiamo la ruota di Bari con la spia 35 nazionale, prendete quel metodo perché lì c'è alta probabilità di caduta di Ambosecco come anche questo, perché ho analizzato le percentuali dei due metodi e sono veramente potenti. Quindi vi consiglio di prendere a vincita avvenuta entrambi i metodi con le previsioni, perché i due metodi tra l'altro rimangono vostri e quindi è un grande vantaggio per il futuro. La spia 86 di Napoli pronta a sbancare sulla ruota di Venezia. Come vi ho detto nell'analisi estrazione, dove i segnali confermano questi due grandi 90, sono confermati dalle mie spie. La spia 86 di Napoli, che è andata a sortire nell'estrazione di mercoledì, porta un grande 90 su Venezia. Quindi chi mi contatterà in privato via WhatsApp 348 75 47 715 potrà richiedere informazioni su come funziona la vincita avvenuta sui metodi spia. Io vi invierò previsione, completa e metodo spia. Il metodo spia varrà per sempre, quindi lo potrete inserire nella collezione delle spie e utilizzare anche in futuro come tanti stanno facendo, per esempio con la spia 70 che ho regalato. Attenzione, 5 ambie e unica ruota, quindi si gioca su unica ruota di gioco e già questo è molto importante perché è una giocata secca su unica ruota. Siamo partiti già dal 17 agosto giovedì, quindi abbiamo già un colpo, già fatto. Massimo 13 colpi. Venezia ruota unica, state attenti. 90 anche in quarta e quinta posizioni, quindi Bari Venezia sono due ruote dove noi andremo a vedere il 90. Prendete i due metodi, a vincita avvenuta, ascoltatemi. Prendete i due metodi. Chi riesce a giocarli entrambi? Bene, altrimenti ne scegli uno dei due. Sono entrambi buoni. 5 ambie e unica ruota. Metodo spia che rimarrà sempre vostro. Negli ultimi 20 casi questo metodo ha pagato 19 ambate e 21 ambie a ruota. Sono tutti metodi potenti con statistiche bellissime, potenti e meravigliose. Quindi attenzione cari amici, un 90 di Venezia con la spia 86 di Napoli e un 90 di Bari con la spia 35 nazionale. Sono due metodi dove il 90 ce l'ho in cima, cioè significa che ce l'ho praticamente in percentuale massima di sortita nell'analisi di questa spia, di queste due spie. Quindi sono convinto e molto probabile che possa cadere l'ambo in entrambi i metodi. Quindi contattatemi via WhatsApp perché non è assolutamente da perdere. Sono due bellissimi metodi. Dal calco dei due metodi esce fuori proprio il 90. Quindi questa è la spia 86 di Napoli che paga Venezia e ieri vi ho presentato la spia 35 di Nazionale che paga Bari. Sono due bellissime ruote. Quindi mi raccomando cari amici a non perdere queste favolose spie. Per adesso saluto a tutti i mister sbancolotto.